Katia Impellettiere che è delegata delle LAC di Brescia, quindi parliamo anche di caccia e purtroppo in questo periodo dobbiamo fare un po' di punto della situazione. Katia intanto buongiorno e benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, si è aperta la caccia, come stanno andando le cose? Noi cerchiamo in tutti i modi di far capire che magari insomma nel 2020 anche basta. Sì, ieri è stata la prima giornata di apertura ufficiale della caccia in Italia, anche se quasi tutte le regioni avevano anche in modo illegittimo fatto le preaperture ai primi di settembre. Noi come LAC siamo nei tribunali di tutta Italia, nei tribunali amministrativi proprio per contrastare queste forzature illegittime delle regioni, anche della Lombardia, in materia di specie, di carnieri, di periodi e abbiamo impugnato tra l'altro i calendari di Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Veneto. Quest'anno c'è un trend, si conferma il trend in declino dei cacciatori, siamo arrivati sotto la soglia dei 470 mila cacciatori effettivamente attivi in Italia e in Lombardia. Anche qui c'è sempre il trend in declino, ci aggiriamo. Quando nel 2001 eravamo sui 90 mila, ora siamo scesi sui 56 mila e per Brescia, che è la provincia con il maggior numero di cacciatori in Italia, siamo sotto i 20 mila cacciatori. Nonostante però questi trend negativi, rimane alto il fenomeno del bracconaggio, della caccia illecita, fenomeno che tuttavia non viene contrastato adeguatamente. Nel 2017 l'Italia aveva sottoscritto proprio per una procedura di infrazione pilot con la Commissione europea, un piano di azione contro l'uccisione illegale di uccelli. E' rimasta lettera morta. Il bracconaggio abbiamo in Lombardia all'epicentro, che è Brescia, con un numero altissimo di denunce all'anno. Avviene proprio sia per la carenza degli organi preposti al controllo, quindi un numero insufficiente degli agenti della polizia provinciale e dei carabinieri forestali, ma anche per tutte quelle azioni che erano nel piano di azione contro il bracconaggio che non sono state attuate, come ad esempio l'inasprimento delle pene per gli illeciti penali amministrativi, che sono veramente ridicoli. Pensiamo che la sanzione in Lombardia generica amministrativa si aggira intorno ai 30 euro, quindi è veramente ridicola. E questo non fa altro che far sì che le persone che vengono denunciate ricommettano il reato. Le pene devono essere decisamente inasprite. Pensa che a me è capitato di chiamare i carabinieri perché c'era un cacciatore a bordo tangenziale ovest, col fucile che cercava di sparare in alto con le macchine che passavano, quindi anche una pericolosità, oltre ovviamente per gli uccelli, anche per le macchine. Quindi dobbiamo essere molto attivi quando sentiamo spari laddove non dovrebbero esserci anche noi a chiamare le autorità. Infatti poi avevo chiamato e ho detto ma è normale questa cosa? Assolutamente no, mi hanno detto signora arriviamo subito, quindi aspetta anche a noi. Sì, il mancato rispetto delle distanze, ma a noi ci arrivano tantissime di queste segnalazioni anche da persone, da fruttori pacifici delle campagne o dei boschi che ci chiamano, oppure anche di persone che vivono in campagna, che vengono vessate dai pallini, dai cani da caccia, che hanno anche proprio dei danni, delle minacce. Quindi questa situazione poi viene ulteriormente peggiorata dalla politica che attua la regione Lombardia. A giugno ad esempio per tagliare le gambe alla vigilanza si sono anche inventati che in Lombardia le guardie venatorie e volontarie devono indossare dei giubbotti catarinfrangenti e dei cappellini. Così le vedono subito i bracconieri, ma è geniale, ma io non lo so, ma io vabbè comunque, che dire no? Quindi tutto a tutto, a Brescia invece, da appunto dove è concentrata la lobby armiera e venatoria, purtroppo anche quando vengono denunciati, magari i magistrati non sono proprio così preparati su certe norme, oppure c'è uno scarso interesse per quanto riguarda i reati venatori. Quindi spesso le denunce vengono archiviati, oppure viene applicata la tenuità del fatto che praticamente è una spezia di archiviazione, anche questa. E noi come l'AC cerchiamo sempre di costituirci parte civili nei procedimenti penali per avere la certezza appunto della pena su queste cose. Ricordo che solo per un esempio, un episodio che è successo l'anno scorso a Brescia, un cacciatore è stato denunciato tre volte consecutive da agosto a settembre e volevano appunto applicare anche qui la tenuità del fatto, il 331 del codice penale. Aveva abbattuto specie particolarmente protette, reti, trappole e nonostante questo era stato preso tre volte. E quindi io penso che questo sia un chiaro segno che ci debba essere una maggiore attenzione verso questo tipo di reati, che non sono reati di serie B o C, ma devono essere presi in considerazione sia a livello penale, sia anche a livello amministrativo per avere la certezza della pena. Assolutamente, assolutamente. Senti dai un sito, come vi si può aiutare, dici tutto. Allora, se volete aiutarci nelle nostre anche battaglie giudiziarie, potete fare un versamento nel nostro codice a www.abolizionecaccia.it quindi ci potete aiutare, ma come dicevi giustamente tu, anche segnalandoci queste illeciti, perché noi poi possiamo aiutarvi in modo concreto e operativo. Di chiamare subito i carabinieri quando sentiamo degli spari dove assolutamente non devono esserci. Grazie, grazie per il tuo impegno. Scrivere anche ai giornali, molto spesso la gente ha paura di uscire allo scoperto e anche c'è una grande umertà su questa situazione. Quindi anche a livello, fare delle denunce anche contro i gnoti, anche questo aiuta. Quindi denunciate anche i boconi avvelenati, qualsiasi atto diciamo illecito.